Ciao sono Chiara e vi voglio raccontare la mia esperienza da tutor. L'anno scorso ho partecipato al bando delle 150 ore e mi è stato proposto di fare da tutor a una ragazza del mio corso a cui mancava un ultimo esame prima della laurea. Inizialmente ero un po' spaventata perché era la mia prima esperienza come tutor all'Università e anche perché mi era stato detto che la ragazza era un po' più grande di me quindi non sapevo bene cosa aspettarmi. Ho quindi chiesto un po' di pareri ad altre figure all'Università per avere un po' di consigli su come procedere con questo percorso. Durante il nostro primo incontro eravamo entrambi molto titubanti. Io ho cercato di metterla alla prova con un tema d'esame tra i più facili in modo tale che capissi quali fossero le sue lacune e capire anche come impostare il lavoro. Abbiamo quindi deciso di impostare il lavoro più sul ragionamento e sulla comprensione della materia quindi la parte di teoria lei l'avrebbe studiata autonomamente a casa facendomi poi le domande su agli argomenti che le erano poco chiari mentre durante i nostri incontri ci saremo concentrate più su esercizi e temi d'esame per capire come impostarli e come ragionare. Alla fine siamo entrate in sintonia e lei è riuscita ad acquisire fiducia in se stessa e a superare l'ultimo esame quindi alla fine del semestre si è laureata e io sono riuscita ad andare alla sua laurea. La mia più grande soddisfazione è stata riuscire a ridarle fiducia e essere riuscita anche a creare alla fine di tutto il percorso anche una nuova amicizia.